Il bilancio è assolutamente positivo, i numeri sono stati molto alti e ci auguriamo che il prossimo anno aumentino ancora, dando sempre un buon servizio. Nelle parole dell'armatore un bilancio positivo e incoraggiante per il collegamento marittimo Trieste-Grado in una stagione iniziata l'8 giugno scorso con alcune critiche poi ampiamente superate dall'alto gradimento dei passeggeri. Devo dire che è stato un anno superlativo dopo ovviamente la fase pandemica. Va ringraziato anche chi ha avuto l'iniziativa all'interno di APT, per esempio il direttore generale, il consigliere disegnato, l'ingegnere signore che sono loro che hanno seguito la fase più difficile, più complicata perché è la fase più burocratica. Dopodiché però non siamo noi solo di APT che hanno fatto questo servizio, quindi va ringraziato l'armatore, va ringraziato il referente sul territorio, il dottor NAP e soprattutto gli equipaggi. Chiuso il 3 ottobre scorso, il periodo di navigazione della motonave adriatica di Vidali Grupa ha compreso su 102 giornate ben 566 corsi totali, di cui solo 37 sostituite per le condizioni meteomarine avverse, permettendo di trasportare in totale 22.094 persone, 1420 biciclette e incassando complessivamente quasi 150.500 euro. Con questi numeri penalizzati dalle regole antipandemia rispetto alla brillante stagione 2019, ma raddoppiati rispetto all'anno scorso, si pensa già alle prossime stagioni. Sicuramente i numeri, vedendo anche un po' quelli che sono i numeri del turismo, sono numeri di crescita e noi cercheremo di essere comunque in linea per accogliere e dare sempre un buon servizio anche con numeri più alti. Tra le curiosità del bilancio emerge che il giorno con maggiore numero di passeggeri, 523, è stato il 7 settembre. Il prolungamento della stagione dopo quella data ha portato a un maggior flusso di passeggeri da Grado a Trieste. Intanto Vidali è presente anche in Barcolana con un servizio turistico. In questi giorni, diciamo in parentesi linea Barcolana, la motonave è impiegata anche in un altro servizio, che è un giro panoramico nel Golfo di Trieste, fino al 15 di ottobre. Grazie.